Trovata a Scampia un'auto rubata. I carabinieri l'hanno notata in via Colorini, zona del rione delle cosiddette case dei Puffi. La vettura è risultata rubata, così i militari hanno approfondito gli accertamenti. All'interno hanno trovato una pistola, due scacciacani, sul calcio delle quali erano montate punte di trapano utili per infrangere i vetri delle vetture durante le rapine. All'interno della vettura anche un'autoradio verosimilmente rubata. Sul caso indagano i carabinieri per risalire ai responsabili.